Il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese da anni si interessa delle problematiche legate alla sanità del comprensorio gelese. Siete scontenti di questo bilancio 2015? Perché? Ovviamente siamo scontenti. Partiamo da una situazione di svantaggio. Siamo la sesta città per popolazione e la tredicesima per servizi sanitari ospedalieri in Sicilia. Nonostante la posizione di svantaggio, anche rispetto alla zona nord di questa attuale provincia o libero consorzio, troviamo sempre dei manager che spendono e investono di più nella zona nord, aumentando il gap e investendo sempre poco nella zona sud. Il tutto per Gela si riconduce a spostamento di reparti. Ogni manager, l'unica novità che ci fa trovare all'ospedale di Gela sono lo spostamento di riparti. Si può andare avanti in queste condizioni, in questo modo per una città di 80.000 abitanti? Sicuramente no. Nel contempo a Caltanissetta si aprono 8 nuove sale operatorie, si individua la biologia molecolare che per legge dovrebbe toccare a Gela perché sia una zona ad alto rischio industriale e quindi le alte specialità per le patologie oncologiche dovrebbero essere fatte nel nostro territorio. Sic fa il centro dati per tutta la provincia di Caltanissetta, nuove redi, quant'altro. A Gela si annuncia invece lo spostamento dei reparti. Quali sono le richieste che è continuata ad inoltrare ormai da anni? Prima tra tutte c'è l'Utin, dal 2008 che chiediamo l'Utin a Gela, dal 2009 individuata ufficialmente e dal 2009 puntualmente ci viene detto che tra sei mesi o tra un anno verrà celebrato il bando di gara per attuare l'Utin. Questo direttore attuale ha promesso a tutti gli italiani davanti ai microfoni in Rai e in sesta commissione sanità ha promesso che entro dicembre 2015, cioè adesso, doveva consegnare i locali pronti per l'Utin e questo manager ha mancato una sua promessa fatta ai cittadini gelesi e ai siciliani. Non si può andare avanti in questo modo illudendo i gelesi e proiettando gli investimenti per Gela sempre al prossimo anno, ai prossimi sei mesi e rimandandoli di volta in volta perché poi alla fine ci ascoltiamo che quegli investimenti non si faranno e non sono destinati a Gela. Chiederete un incontro? Abbiamo chiesto un incontro dal giugno di quest'anno, ripetutamente, attraverso raccomandate, attraverso lettere protocollate, attraverso telefonate, ma il manager Iacono non è disposto al confronto con il nostro comitato. Vuole fare un appello attraverso le nostre telecamere? L'appello che faccio di anzi alle vostre telecamere è quello di attenzionare questo ospedale da parte di Regione e da parte di Aspo per quello che merita. L'unica fortuna che abbiamo adesso in questo territorio è che a breve usciremo da questo libero consorzio di Caltanissetta e poi dovremo dimostrare alla Regione perché brucia tutti questi investimenti nella sanità in un consorzio di appena 169.000 abitanti.